Buon viaggio, ben trovati ancora a muoversi in Toscana, Mauro Ciutini in studio. Code per tre chilometri sulla Firenze-Pisa-Livorno causate dai lavori tra Pisa Aeroporto e lo svincolo Navacchio-Visignano. Siamo in direzione di Livorno. Sempre in Fipilì una perdita di materiali tra il centro intermodale Ovest e l'allacciamento con la Fipilì in direzione di Livorno. Segnalato un veicolo fermo sulla A11, la Firenze-Pisa tra Montecatini e Pistoia in direzione di Firenze. C'è ancora traffico rallentato sulla via Aurelia sulla Statale 1 dopo l'incidente avvenuto all'incrocio Santa Maria di Rispescia in direzione Ponte San Luigi. Un altro veicolo è segnalato in difficoltà sulla A1, siamo tra Firenze Sud e Incisa-Reggello, la direzione è quella per Roma. E con questo è tutto, muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!